ventiquattro marzo duemilaventuno in compagnia di eh Valerio Federico che ricordiamo sul LibriTV già presente altre volte abbiamo intervistato in varie occasioni frequentazioni radicali eh comuni in qualche modo e quindi è un ritorno lo ringraziamo di essere qui con noi Valerio Federico fino a poco tempo fa eh era eh tesoriere di più Europa eh è stato sfiduciato eh in un'assemblea a seguito di quella poi si è dimesso anche il segretario Benetto della Vedua e c'è stata una dichiarazione abbastanza dura di allontanamento da più in Europa di Emma Bonino ecco partiamo da queste premesse diciamo in sintesi un pochino questi antefatti eh più Europa per chi non lo sa è un partito che si è formato in occasione delle elezioni politiche del duemiladiciotto forse Europa radicali italiani il centro cristiano democratico era eh diciamo erano i componenti eh forse Europa di Benetto della Vedo a radicali italiani di Tardomaggi e il centro democratico eh di Tabacci che portava un pochino c'era era quello che portava la possibilità di non dover necessariamente raccogliere le firme per la candidatura. Ecco eh è una composizione abbastanza eterogenea Valerio? Beh ehm era era una composizione eterogenea che pure noi eh abbiamo vissuto eh vedendo in un più Europa fin dall'inizio eh come una una speranza importante cioè quella di mettere insieme il diciamo la tradizione eh cattolico liberale, cattolico democratica insieme a quella eh di origine radicale. Ehm dal punto di vista politico, puramente politico, della proposta politica, della necessità di un partito come più Europa in quel momento eh io credo fosse una intuizione assolutamente giusta e che avrebbe potuto effettivamente mettere insieme queste anime anche dal punto di vista proprio politico della e della proposta politica. Eh purtroppo le cose non sono andate bene ma in realtà diciamo così la fuoriuscita di una parte del eh partito eh costituito dalla dal centro democratico e da chi eh vicino a Bruno Tabacci come tu hai detto e anche dall'uscita eh di ehm di Fusacchia che fu il il uno dei candidati no? Al primo congresso alla segreteria di più Europa. Beh la loro uscita in realtà eh non è stata determinata diciamo da una incompatibilità di carattere eh diciamo eh politico generale tra i cattolici liberali e eh e i radicali. In realtà è stata dovuta molto semplicemente a una scelta politica decisiva eh importante eh sul ehm sul governo Conte Due. Governo Conte Due sulla fiducia del quale il partito si è spaccato eh e da una parte eh Bruno Tabacci eh Fusacchia e Magi anche Riccardo Magi ehm che sostenevano la necessità eh di eh di sostenere il governo Conte Due eh da una parte e dall'altra parte invece eh diciamo il segretario Benedetto della Vedova e molti altri ehm e fu una decisione traumatica eh l'esito del quale portò più Europa a scegliere la sfiducia cosiddetta costruttiva al governo Conte Due e e determinò all'uscita di queste componenti quindi ben presto diciamo eh più eh Europa assunse l'assetto attuato. Molto brevemente eh più Europa ha partecipato a due eh due tornate elettorali e le 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 politiche che hai detto tu prima ma poi anche le europee con dei risultati eh certamente più che discreti dal punto di vista come dire numerico della percentuale ma che eh non ci permisero di raggiungere il quorum né per il Parlamento europeo né per il Parlamento italiano dove comunque appunto abbiamo eletto eh diciamo non nella quota eh diciamo così proporzionale ma nei collegi uninominali uninominali gli aletti di cui abbiamo parlato. Più Europa poi è arrivata eh dopo due anni di eh azione politica dove posso dirla posso dirlo tranquillamente abbiamo sostanzialmente eh le abbiamo azzeccate tutte nel senso che noi abbiamo posto la grande questione della eh necessità eh di una di un'Europa più integrata ma di un'Europa in generale più presente più forte come strumento unico possibile eh perché i cittadini europei potessero aspirare a una situazione di maggior eh benessere ehm e mi pare che sui presupposti cioè sul diciamo il sostegno all'ideale europeo eh pacificamente si può si può dire che eh tutti quanti ancora siete d'accordo su questo mh mi sembra di capire però è una novità che ormai è d'accordo anche tutto il resto del paese sull'europeismo di facciata rispetto al nostro europeismo autentico. La pandemia ci ha messo il suo e così via. Certo. E mh questa eh c'è c'è stato mi pare di aver letto comunque sia c'era un dibattito in corso prima di questa rottura che poi appunto è avvenuta con una sfiducia a te di cui parleremo eh anche soprattutto per una questione interna organizzativa organizzativa del congresso. Vero ma ma eh la realtà è che quel confronto anche aspro ormai era stato sostanzialmente superato nel senso che c'era un accordo di massima preso dalle varie componenti del diciamo del partito dai dei vari membri di eh direzione assemblea ormai l'accordo era sostanzialmente fatto rispetto al regolamento congressuale quindi alla tenuta congressuale e alle nuove regole. eh quello che ha fatto saltare diciamo questo questo accordo è stato la decisione del collegio di garanzia da me in quanto tesoriere interpellato eh secondo statuto mh lo statuto nostro prevede che sia il collegio di garanzia di interpretare le norme statutari e io mi sono riferito rispetto alle alla norma che regola le iscrizioni interne eh al collegio di garanzia mi sono riferito al collegio di garanzia per una sua decisione perché le tipologie di iscrizioni che erano arrivate di cui io prendevo visione eh erano diciamo avevano caratteristiche uniche in parte nuove che quindi eh rendevano difficile l'interpretazione di quella norma per decidere se considerarle valide o meno eh e in più verificando tutti eh i il i precedenti e avendo verificato che i precedenti erano sostanzialmente erano relativamente contraddittori certamente prevedevano eh una eh interpretazione rispetto alle iscrizioni diversa anche eh rispetto a quella che io pensavo come dire eh prassi in più l'Europa eh ho dovuto naturalmente eh sono stato costetto per senso di responsabilità a non imporre la mia decisione ma a interperare il collegio di garanzia. Il collegio di garanzia ha deciso eh ha preso una decisione come come da statuto questa decisione non è stata gradita a una parte della eh dell'assemblea una parte maggioritaria dell'assemblea eh e quindi a quel punto evidentemente quella parte ha deciso di interrompere ogni rapporto di discussione e confronto per determinare un delle regole congressuali condivise e ha eh diciamo così ha aperto la strada verso la mia sfiducia cioè individuando nel tesoriere di alcune colpe che è del tutto evidente che io eh considero eh completamente destituite di ogni fondamento e che ho dimostrato ampiamente strumentali e false ma così è stato e quindi diciamo le responsabilità sul trattamento delle iscrizioni sono state assegnate al tesoriere che era l'unica carica che poteva essere sfiduciata eh perché il collegio di garanzia aveva bisogno dei due terzi così come il presidente così come la presidenza e così come la segreteria il ehm il tesoriere era l'unico che poteva essere sfiduciato con la maggioranza dei voti dei degli aventi diritto e quindi così si è proceduto ci sono state evidentemente forti eh fortissime polemiche eh precedenti all' assemblea della sfiducia nel corso dell'assemblea della sfiducia questa parte che aveva firmato le la la sfiducia che la richiesta ha ritenuto di non parlare di non dire nulla di non argomentare a seguito della della relazione del tesoriere e di limitarsi eh con un certo diciamo un curioso silenzio eh a poi eh votare la sfiducia che è ma il nucleo in sé era verteva sulla questione dei retessari perché secondo diciamo tradizione radicale il diciamo il organo supremo insomma che sarebbe il congresso è un congresso di iscritti quello che decide un po' la linea che decide tutto è stato un congresso di iscritti è il primo congresso sì appunto secondo insomma diciamo quasi eh il diciamo tradizione radicale ecco mettiamo e e quindi ovviamente diventano fondamentali le iscrizioni le iscrizioni che secondo se non sbaglio secondo statuto sono nominative eh o nominali cioè ogni singola persona naturalmente ogni singola persona deve deve dare tutti i propri dati e comunicare in questo modo la propria eh avvenuta intenzione di eh iscriversi eh e quindi praticamente ehm ci sta dicendo diventa praticamente il pericolo in sé eh è quello di un pericolo insomma diciamo una conseguenza secondo me di questo tipo di impostazione di base è quella che poi nei pressi dal punto di vista temporale del congresso si possano verificare si possono realizzare delle delle iscrizioni che le famose truppe cammellate insomma cose che si poi se vedi vedi però poi Gianni bisogna bisogna anche definirle e infatti quello che è evidente perché eh naturalmente le regole sono corrispondenti a quelle di radicali italiani ma anche e anche il software che eh diciamo che gestisce le iscrizioni sono uguali anche a quelle di azione di Italia Viva pure però i congressi ancora non li hanno fatti certamente di radicali italiani quindi in realtà la 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 regola eh è quella eh che abbiamo sempre eh applicato in radicali italiani cioè chi paga l'iscrizione ha la possibilità di eh venire al congresso e di votare e così è andata anche in più Europa qual è la differenza tu mi dirai la differenza è stata semplicemente che anche si presume a seguito del fatto che la quota di iscrizione eh a più Europa già nel primo congresso è tuttora così è molto più bassa di quella di radicali italiani. Quanta euro mi pare? Di cinquanta euro eh la quota di radicali italiani è ancora di duecento euro eh naturalmente anche per quello ma anche perché più Europa insomma ha avuto una sua fase di maggiore notorietà diciamo così c'è stato eh molto interesse e quindi effettivamente quello che è accaduto al primo congresso è che in immediata eh nella nell'immediato avvicinarsi della data ultima utile a descriversi prima del congresso c'è stata una grandissima affluenza di iscrizioni che ha determinato grandi polemiche oltre no circa cinquemila persone va poi ricordato che invece al congresso sono venuti hanno votato poco meno della metà di queste cinquemila persone quindi anche la tesi che tutte queste persone che si sono iscritte l'hanno fatto per poi votare al congresso è smentita da questo aspetto. Quello che certamente è accaduto era una grande crescita di iscrizioni nei press cioè diciamo con l'avvicinarsi del congresso e poi le polemiche sono diciamo dovute a l'afflusso di alcune persone organizzate diciamo così al al congresso per per votare poi in realtà chiaramente non è mai stato nessuno è mai stato nelle condizioni eh di provare alcuna forma diciamo così di di voto di scambio che era eh il quesito che ha sottoposto Marco Cappato diciamo così agli organi eh all'organo di garanzia e cioè se ci fosse stato uno scambio tra il le persone che sono venute eh a votare e il pagamento per esempio del viaggio del vitto magari della testera e queste cose naturalmente eh non sono state in alcun modo dimostrate e quindi e tutte le testere. No siamo garantisti ovviamente eh anche anche in questo mi sembra eh questo diciamo una considerazione personale che questo tipo di impostazione di mh alla base questa regola di base del congresso degli iscritti eh predispone a quella che è chiamata appunto truppe cammellate ma è un'attività di lobbying un'attività di lobbying che a mio parere è un'attività di rete dove delle persone naturalmente politicamente parlando si organizzano molte altre in maniera che la persona che ritengono che più eh risponda alle loro esigenze e i loro i loro principi eh assuma delle cariche eh direttive eh probabilmente io questa non sia in considerazione personale è una regola che ha la base che mh cioè andrebbe secondo me rivista perché è una cosa abbastanza è un po' come io la considero un po' come comprare due o duecento biglietti della lotteria insomma che c'è più possibilità di vincere la lotteria se ne compri eh di più eh ed è una cosa però vedi tu utilizzi il termine comprare e e qui il punto è questo eh noi non sappiamo se qualcuno ha mai comprato delle tessere l'avesse fatto sarebbe di comprare nel senso iscriversi comprare nel senso iscriversi cioè se io compro la io singolo compro la tessera mi iscrivo certo se la persona si iscrive individualmente ovviamente nulla nulla si può dire io credo che il il problema però sia effettivamente proprio proprio questo rispetto al primo congresso cioè il fatto che eh questa immagine di persone soante eh disturbato quelle persone che magari invece convinte di più Europa che hanno seguito più Europa e che si sono sentite in qualche modo danneggiate e la la realtà è che poi bisogna cercare delle soluzioni per questa per quello che è sì non in modo così evidente ma certamente almeno parzialmente accaduto al primo congresso bisogna bisogna intervenire con delle regole e intanto però bisogna anche dire c'è qualche relazione tra quello che è accaduto recentemente cioè di persone eh di di numeri consistenti di persone iscritte con lo stesso diciamo con la stessa modalità di versamento cioè una persona ha iscritto seppur separatamente altre persone ecco questa pratica eh è quella eh diciamo eh alla base del del di quello che è accaduto nel primo congresso beh parzialmente no nel senso che naturalmente il primo congresso quello che ha disturbato è la l'organizzazione eh di 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 gruppi di persone che sono arrivati al congresso e che ha in qualche modo colpito alcuni in questo caso invece quello che si è verificato è semplicemente che alcune persone hanno iscritto eh per loro conto diciamo così seppur separatamente altre persone no e questo è stato il il casus belli io ho sempre ritenuto che questo fosse una quanto meno delle cause di annullamento e infatti ho sempre dato l'indicazione a chi me l'ha chiesta perché per il resto c'era lo statuto che parlava non in modo chiaro ma parlava eh di non fare più di un certo numero di iscrizione con la stessa modalità di pagamento eh poi e poi cos'è accaduto è accaduto che è arrivato un un flusso importante di iscrizione quindi io ho dovuto naturalmente ho richiesto di visualizzare di vedere tutto quello che era accaduto in passato Gianni in modo tale da capire se eh l'interpretazione che io eh avrei potuto dare della norma era quella anche corrispondente ai precedenti nei precedenti ho invece eh individuato delle scelte eh completamente diciamo opposte a un certo tipo di eh di di considerazione quindi di irregolarità eh di queste tessere tanto è vero che tutte le iscrizioni che erano state fatte ehm esclusivamente con questa caratteristica cioè quella di alcune persone che hanno che ne hanno iscritte altre erano state tutte validate e quindi essendo state tutte validate in passato eh io ho preso atto voglio dire che l'interpretazione nei fatti che era stata data è stata data eh in modo particolare e così era stata data in questo modo io non ho neanche fatto alcuna valutazione cosa ho fatto o naturalmente mi sono riferito al collegio di garanzia collegio di garanzia ha detto no quelle tessere in realtà diciamo così sono perfezionabili cioè sono valide nonostante questa caratteristica eh e sono valide se tu tesoriere eh le verifichi continui con l'operazione di verifica che avevi già fatto cioè se ne vori se ne verifichi la ehm l'intenzione della singola persona di iscriversi a più Europa cioè la volontà dell'individuo della singola persona quindi il eh il ehm collegio di garanzia tra l'altro composto da tre radicali Olivia Ratti, Silvio Viale e eh eh Lorenzo Striclivers ha deciso che quello era il diciamo la 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 era la volontà dell'individuo che doveva essere eh indagata per validare quelle iscrizioni e così io naturalmente ho fatto dando seguito alla decisione del consiglio. Questo non è piaciuto a molti e perché altri chi poi ha mi ha sfiduciato invece riteneva che io avrei potuto senza rivolgermi al collegio decidere di annullare con una mia interpretazione di imperio diciamo così queste tessere ovviamente non è possibile non avrei potuto farlo rispetto ai precedenti e e per questo sono stato sfiduciato e e naturalmente da quel momento eh è accaduto quello che tu hai detto prima Emma Bonino ha eh lasciato più Europa io mi auguro temporaneamente. Ecco ecco passiamo appunto a cominciare anche al futuro Emma Bonino ha preso queste distanze ha fatto la famosa metafora del carciofo che viene diciamo sfogliato e non voleva appunto che lei fosse la foglia e qui mi arriva arrivare dopo lei sì questo però permettimi di precisare Emma Bonino l'ha detto chiaramente cioè la sua decisione è dovuta a i metodi eh in primis quello di utilizzare l'istituto di sfiducia eh nei miei confronti quindi ai metodi utilizzati da queste persone dicendo che queste persone insomma con queste persone lei non ha intenzione di convivere diciamo politicamente in un partito. Questa è stata la quello che lei ha spiegato. Sì subito dopo è seguita diciamo la dimissioni del segretario Benedetto della Vedova dimissioni che secondo statuto poi impongono un la convocazione di un congresso. Al momento più Europa è eh diciamo diretta se così possiamo dire dalla presidente Simona Viola che è un avvocato eh che ha insomma l'onere di di gestire tutta questa fase mi sembra che peraltro ho letto che ha mh confermato la segreteria che la dovrà diciamo coadiuare in questo eh ma sì c'era c'era una segreteria e mi pare con una scelta logica cioè senza volere imporre lei delle decisioni fuori dalla cosiddetta ordinare amministrazione non ha fatto altro che chiedere a queste persone di continuare a collaborare con lei senza intervenire in alcun modo senza modifiche proposte di cambiamento eccetera eccetera eh Simona Viola ha acquisito tutte le cariche fino a ieri quando Carmelo Palma è stato ehm votato c'è stata una nuova assemblea sì sì beh ieri beh ieri naturalmente eh allora io non voglio entrare nel merito di una questione che è tutta tecnico giuridica e che ha sollevato Simona Viola nella sostanza Simona Viola che è un avvocato bravo ha portato eh un parere di un eh giurista di un professore ehm che eh in qualche modo eh sostiene che a seguito delle dimissioni del segretario tutti gli organi non decadono ma sostanzialmente vengono diciamo eh congelati in una situazione dove possono attivare solo iniziative di ordinaria amministrazione e quindi secondo questa eh questo parere anche eh il l'elezione del tesoriere sarebbe diciamo un atto non di ordinare amministrazione e quindi potrebbe essere considerato illegittimo e quindi la sì quindi Simona Viola rifacendosi a questo parere ha detto semplicemente il il tesoriere se lo volete se volete voi assemblea lo vota ognuno si prende il la responsabilità di fare di partecipare al voto chi partecipa al voto naturalmente sa rispetto a questo parere che si prende anche una responsabilità di un eventuale eh atto illegittimo eh il risultato è stato che comunque insomma 40 persone hanno eh votato la eh fiducia questo in coincidenza con la eh di con le dimissioni del segretario tu mi stavi dicendo sì sì cioè che che questa questa sorta di 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 fase di 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 limbo eh legato che prevederebbe solo atti di ordinare amministrazione sono sarebbero sono l'esito delle dimissioni del segretario quello che ha detto anche Simona Viola è che il eh congresso non è che è da convocare il congresso è convocato nel senso che è automaticamente convocato rispetto alla dimissione del eh segretario eh semplicemente bisognava indicare una data dopo la eh l'elezione di Carmelo Palma eh e la non partecipazione al voto di una larga minoranza eh Simona Viola ha annunciato la data le date eh del prossimo congresso eh di più Europa dal ventuno al ventitré maggio congresso da tenersi eh diciamo con modalità eh da remoto ma anche questa indicazione di data e diciamo così questa procedura di convocazione è contestata dal nuovo eh tesoriere ho capito quindi nuovo tesoriere è stato diciamo eletto Carmelo Palma allora in questa assolutamente ho capito ma i tempi sono stati praticamente di questa escalation prima le la tua sfiducia poi il passo indietro di Emma e poi il giorno dopo di Benedetto della Vedova sì questo diciamo è la la cronologia esatto la la dimissione di Benedetto della Vedova è stata naturalmente a seguito di tutto quello che era accaduto naturalmente sfiducia eh decisione di Emma eccetera eh anche per eh evidentemente determinare le condizioni perché siano finalmente mi viene da dire ma questa invece è una mia opinione eh finalmente gli iscritti eh a decidere e magari ti dirò Gianni con un congresso anche a lasciarci dietro alle spalle tutte queste eh vicende che hanno danneggiato eh l'immagine di più Europa che pure invece è stato un partito che ha avuto una sua forza e visibilità in questi due anni rispetto all'agenda politica al panorama politico eh nazionale quindi è sicuramente stato tutte queste vicende sono sicuramente state un danno certificato per il nostro partito che deve riguadagnare deve tornare a meritarsi la fiducia degli iscritti di chi vota più Europa e rilanciare sulla politica quale quale eh diciamo strumento migliore che è un congresso che richiama gli iscritti e che richiama i media anche a una nuova diciamo una nuova quantomeno eh a una proposta eh politica magari la continuità delle scelte di più Europa eh ma certamente un un congresso che riporti che possa riportare eh più Europa eh alla politica e alla sua forza di fondo no che sono le iniziative politiche le proposte politiche non dimentichiamolo la presenza anche all'interno del governo Draghi eh del di Benedetto della Vedo attualmente sottosegretario sì peraltro devo dire lo voglio citare ehm con piacere eh ho visto che ha fatto il momento con Rita Bernardini in se non sbaglio ieri eh insomma c'è una tradizione radicale che in alcuni momenti si ricompatta si ritrova come in questa diciamo partecipazione a momento di Rita Bernardini e però ti chiedo eh questa questo dissidio in che parte secondo te se c'è una parte è eh una tessera dell'ampia giad radicale che da tempo post morte di pannella coinvolge tutto tutto chi diciamo il il cuore eh di tutto quello che ha segnato nel nell'area radicale di di noi radicali che ci consideriamo radicali che lo siamo stati che lo siamo eh una serie di passaggi che francamente non possiamo certo in questa intervista richiamare tutti anche perché abbiamo pochi minuti ti chiedevo se appunto fosse in qualche modo alcuni giorni alcuni giorni forse sarebbero sufficienti ma certamente ha portato a quello che dici tu cioè una ehm una parcellizzazione di 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 tutta quell'area dovuta ehm e faccio un' analisi come dire se mi permetti un po' un po' scontata ma è scontata e forse banale ma è vero naturalmente che quando un partito di carattere leaderistico carismatico evidentemente eh vede la morte eh del suo leader naturalmente difficilmente può ehm a questa diciamo sopravvivere a questa eh perché la figura di Marco Panella era quella che ovviamente teneva eh eh unite eh tutte queste persone eh richiamandole a una eh sensibilità comune che però era la sensibilità che noi regalavamo insomma quasi in modo a volte perfino eh a critico ma insomma a un leader che che tutti riconoscevamo eh non è più così non saprei se eh più Europa ha sicuramente molti radicali e all'interno obiettivamente che sono rimasti all'interno di più Europa e che hanno anche delle cariche eh importanti o che le hanno avute e e quindi no lo chiedevo perché te lo chiedevo perché perché questa sfiducia è partita da un gruppo facente capo di se sbaglio a Carmelo Palma anche lui è molto difficile diciamo che diciamo che quella maggioranza questa maggioranza che ha determinato la mia sfiducia e che si è costituita come maggioranza in assemblea in realtà è assolutamente diciamo è politicamente direi certamente non omogenea ecco mi viene da dire perché è eh sostanzialmente composta diciamo così come possiamo dire guidata vogliamo dire così da eh persone che eh erano di stretta fiducia politica naturalmente ma anche come dire nel rapporto diretto umano eccetera ma certamente politica del segretario Benedetto della Vedova eh persone come eh Carmelo Palma l'hai eh citato ma anche eh Pier Camillo Falasca erano persone che da sempre collaborano eh e sposano diciamo il cammino politico di Benedetto della Vedova la rottura tra loro e Benedetto della Vedova è alla base effettivamente della 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 formazione di una sorta di maggioranza un pochino particolare che vede eh queste due figure comunque importanti e anche una parte di radicali possiamo dirla così cioè di persone che comunque hanno fatto politica con te con me con i vari soggetti radicali e che hanno diciamo così che si sono ritrovati con queste istanze che io evidentemente contrasto completamente in queste istanze eh insieme proprio a ehm a Carmelo Palma e a eh Pier Camillo Falasca eh invece eh diciamo così vicino alla linea del partito che abbiamo insomma in qualche modo anche determinato insieme con molte di queste persone eh la linea ufficiale del partito la linea del segretario insomma così ehm sono rimaste altre evidentemente altre componenti quali una parte di radicali e ehm e altre altre persone eh come insomma le più note direi Fabrizio Ferrandelli piuttosto che l'ho detto Simona Viola e insomma altre persone relativamente note eh che eh sostengono e hanno sostenuto la linea politica però ti devo dire veramente eh è molto molto difficile individuare elementi di rottura politica tra queste due parti che si sono diciamo lo scontro che lo scontro ultimo ha radicalizzato no? È molto difficile sì forse si può eh individuare nel rapporto con azione con il resto dell'area liberal democratica ma comunque anche leggeri differenze di di lettura rispetto ai rapporti tra più Europa e l'altra e l'area liberal democratica in generale non uniscono comunque quella parte che è arrivata a costituire una maggioranza in più Europa quindi effettivamente i motivi sono tutti interni sono tutti di mi viene mi viene un po' triste dire di 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 potere interno diciamo così di spazio politico interno ma definiamolo così e e questo è quello che è emerso io penso che ci siano e ci debbano essere tutte le condizioni per ripartire eh al prossimo congresso e che quindi sia urgente un congresso dove gli iscritti sono chiamati a decidere eh a quel punto con congresso vi hai detto mi ripeti la data così la ventuno ventitré maggio ventuno ventitré maggio è previsto un congresso fisico almeno per quello che possiamo vedere adesso o comunque in altro modo cioè insomma no semplicemente perché è impossibile prevedere un congresso per iscritti in presenza e quindi diciamo eh la 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 legge nazionale prevede e rende possibile per le eh grandi organizzazioni di eh come dire sostituire il metodo diciamo la la presenza fisica con eh i sistemi di presenza tramite eh online diciamo così e quindi sarà questa diciamo tutta questa vicenda si è consumata mh all'interno di contenitori tra virgolette eh online nulla dei cioè nel senso ovviamente sì assolutamente sì assolutamente sì questa se vogliamo è qualcosa di antropologicamente interessante io volevo arrivare a questo io penso che un giorno si studierà che certe cose che si sono certe decisioni in generale in vari ampi anche di sì di tipo personale eh vanno molto più diciamo sono agevolati da queste quindi vengono amplificati non vengono facilitati amplificati proprio facilitati forse il fatto di non esserci insomma una certa diciamo dialettica anche nei congressi radicali me la ricordo abbastanza abbastanza frequente in passato come anche mi ricordo persone che arrivavano all'ultima ora e si si iscrivevano per le poche settimane che restavano e poi votavano come iscritti mi ricordo sempre stato caratteristica di caratteristica non non si chiamavano truppe carmellate non so ma insomma è una cosa che si verifica sempre in base al discorso nel congresso degli iscritti insomma non si scandalizzava nessuno esatto è quello che hai detto non si scandalizzava nessuno forse non erano pullman come adesso vengono secondo me un po' erroneamente definiti forse erano pulmini ma io mi ricordo anche facchine un po' sgangherate ma insomma una chiamata alle armi per vario motivo per esatto per affetto eccetera ma insomma di persone che poi dal punto di vista di militanza reale non è che si vedessero frequentemente assolutamente ma la testa il che accolando che il la storica data consuetudinaria dei congressi radicali diciamo fine ottobre il primo weekend era il primo weekend di novembre no? Il weekend di novembre quindi la testa si ci faceva per i pochi mesi che restano poche settimane. Però su questo ecco ci tengo ci tengo a dirti a dire chi seguirà questa nostra chiacchierata che comunque io credo che si debba pensare a qualche regola che possa non con queste con queste espressioni utilizzate assolutamente insopportabili che hanno danneggiato l'immagine più Europa di persone no? Come tu hai stesso tenuto a chiamarli riconoscendo che se ne parlava anche nei radicali quindi cammelli truppe cammelate una roba abbastanza violenta diciamo a persone che obiettivamente non militano nel partito e non sono iper informate di quello che il partito fa che probabilmente hanno una loro impostazione comunque politica che le rende compatibili con questo partito e che soprattutto hanno alcune persone alle quali fanno affidamento no? Che vanno e le votano ecco io penso che questo sia un fenomeno assolutamente normale se non naturalmente con le degenerazioni che potrebbero essersi verificate concedimi di dire potrebbero per ovvi motivi devo prendere delle responsabilità se no che potrebbero essersi verificate il primo congresso ecco al netto di quelle degenerazioni io credo che si possano e si debbano discutere delle regole in un partito che obiettivamente può diciamo così toccare alcuni interessi e alcuni appetiti che evidentemente un partito come un soggetto radicale non può toccare debbano essere valutate delle regole una di quelle possibili è rendere la possibilità sì ma certo però non basta perché se tu anche decidi che il termine per partecipare al congresso lo fai quattro mesi prima e che ha le reti di conoscenza porterà le persone come è normale che sia di iscriversi quattro mesi prima si potrebbe limitarlo prevedendo che al congresso partecipano le persone che si sono iscritte negli ultimi due anni cioè l'anno del congresso ma anche l'anno precedente questa è una possibilità che secondo me può essere benissimo presa in considerazione così come si potrebbero finalmente codificare in modo tale da non avere interpretazioni dubbie codificare delle regole anche per i versamenti dire che una persona può con lo stesso modalità di pagamento iscrivere al massimo cinque persone dieci persone perché si ritiene che quelle possano essere diciamo di ambito familiare eccetera non lo so ma insomma perché non valutarle il punto è che questo partito e questa è una responsabilità di tutti nei due anni non si sono mai preso in considerazione possibili riforme statutarie perché è lo statuto che va modificato in un certo senso non sono mai state modificate anche perché si pensava che quella norma fosse sufficiente per diciamo così interpretare e quindi procedere a validazione annullamento di iscrizione non lo era non lo era lo io l'ho dimostrato nei miei atti che non era possibile prendere sulla tua pena in qualche modo c'è eh Valerio io ti ringrazio e a questo punto niente all'appuntamento è vediamo un pochino quello che accade presumibilmente quindi eh benedetto della vedova sarà ricandidato si ricandiderà insomma la segreta l'ha annunciato Gianni l'ha annunciato annunciato che si ricandiderà al prossimo congresso come segretario le due eh candidature già annunciate sono la sua e quella di un giovane militante eh del Varesotto che è eh Giulio del Balzo queste sono le uniche due caratteristiche eh scusami ehm candidature già ufficializzate per il prossimo congresso naturalmente c'è tempo perché altre si manifestano bene allora io con queste parole concluderei ovviamente auguriamo un buon lavoro a Simona Viola che insomma avrà da da fare eh certo e cercando di insomma che gli animi non sperando che gli animi non si non si infiammino ulteriormente. Questo assolutamente ti 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 ringrazio anche di non augurare buon lavoro a me perché sicuramente io avrò meno lavoro e molto più tempo libero ma certamente. Valerio io ovviamente ti conosco come persona eh simpatica personalmente perché per quanto mi riguarda le persone vengono prima delle i vari incarichi e delle convinzioni politiche o quant'altro certo. Ma insomma anche politicamente ehm c'è sempre stata una sorta di vicinanza eh sei stato sempre molto simpatico a essere a farti intervistare dai libri di tv anche quando la cosa eh ti costavano un poco e quindi ovviamente ti auguro un futuro eh glorioso ma non è detto io direi più necessariamente in più però magari anche altrove insomma non penso che sia l'unica l'unica tua risorsa insomma quella. No 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 oggi oggi però il mio tentativo e nei prossimi mesi eh sarà quello di rilanciare più Europa insieme a tutti quelli che vorranno veramente rilanciare uno strumento che io certamente spero molti altri eh io ritengo ancora estremamente utile nell'agenda politica eh italiana internazionale e nel 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 nostro panorama eh politico nazionale. Certamente e lo dico in chiusura appositamente ovviamente diamo ehm invitiamo a chiunque voglia a replicare a queste eh tue parole eh c'è vari schieramenti, passioni, eccetera eh sentiamo tutti quanti nelle ricostruzioni che ovviamente ognuno poi dopo avrà sui personali e che non collimeranno in tutto con quelle degli altri e per LibriTV come sempre come ai tempi dei congressi radicali eh è aperta a tutti quanti. Grazie ancora, grazie a Barrio Federico. Grazie Gianni, grazie, ciao. grazie a qui e